Il primo di questi cinque si gioca sulla battuta di Ilaria Battistoni per Marignano Riceve Arley La fasta di Boriassi Che chiude 25-19 3-0 per il golle soverato Che vince meritatamente questa partita Una vittoria importantissima in chiave classifica E allora 25-22 25-15 25-19 parziali Con il coach Stefano Saia Uno dei due ex di turno Qui ho già il pala a scopa Commentiamo questa sconfitta di Marignano qui a Soverato Una 3-0 secco Un primo set equilibrato Poi sostanzialmente due set Dove il Soverato l'ha fatta da padrone Forse il perché di questo calo dopo un primo set Comunque lottato sino alla fine No, devo dire che Complimenti a Soverato Innanzitutto Devo essere sincero La mia squadra non mi è piaciuta fin dal primo set Abbiamo avuto un atteggiamento Comunque troppo contratto Fin dalle prime battute del primo set Questa è una cosa che ci portiamo dietro da tanto tempo E su cui non riusciamo ancora a venirne fuori Il ramarico è che con questo atteggiamento Noi non mettiamo in mostra E non sviluppiamo quello che di buono Siamo capaci di fare Che facciamo in settimana E che facciamo di solito nelle partite in casa Questo però sta diventando un alibi Oggi è stata una partita Inaccettabile dal punto di vista del Tecnico Con Soverato Che ha tutti i meriti del mondo Ma che ci ha sovrastato in tutti i fondamentali In tutti i fondamentali sono stati migliori di noi E questo è sicuramente un merito di Soverato Ma un demerito nostro Perché noi siamo capaci di giocare a pallavolo in un altro modo Che cosa c'è che non va ancora Non riusciamo a metterlo a fuoco Cercheremo comunque di ripartire martedì Questa però è stata decisamente Una tra le peggiori partite che abbiamo disputato quest'anno Mi spiace essere venuto a Soverato a giocarla Perché era una partita importante Che ci avrebbe permesso di fare Un bel salto in classifica Ma ancora una volta abbiamo Purtroppo sprecato un'occasione Ripeto dal punto di vista tecnico C'è poco da dire Sono quelle giornate dove L'avversario sembra La nazionale brasiliana Ritorno a Soverato anche per Costanza Manfredini Quest'anno amaro rispetto a quello dell'anno scorso Dove aveva vinto con Chieri Un volley Soverato che ha meritato Dicevamo anche con Coach Italia La vittoria sicuramente ha giocato molto meglio Nonostante comunque un primo set Dove c'era stato un certo equilibrio Poi comunque c'è stato un vostro calo Avete staccato probabilmente anche di mente Oltre che a livello tecnico Ma noi abbiamo un grandissimo problema di approccio Proprio durante le trasferte Quindi il primo set come hai detto tu è stato più equilibrato Ma comunque fin dall'inizio siamo partite con tratte Siamo partite sotto E non abbiamo espresso il nostro gioco Come spesso ci capita in trasferta Soverato è una squadra giovane Che gioca molto bene Che soprattutto ha voglia di giocare Si vede nel gioco che esprime E noi oggi onestamente Siamo state peggiori in tutto E quindi il risultato è esattamente quello che ci meritiamo Dobbiamo lavorare tanto E sono sicuramente amareggiata Soprattutto perché Per me è sempre piacevole Tornare qua in mezzo A tutta questa gente Che per me è un po' come una seconda casa Quindi speravo in una partita Insomma un po' migliore Anche dal punto di vista del gioco Un po' più combattute Ludovica Guidi è sicuramente Una delle maggiori protagonisti Di questa bella vittoria del Vole Soverato 3 a 0 Una vittoria di squadra Giocato bene tutta la squadra In tutti i fondamentali E una vittoria anche importante per la classifica Sì Era necessario Aggredire bene questa partita E poter scalare La classifica della pulpromozione Proprio perché abbiamo mancato Qualche punticino in trasferta E dovevamo riscattarci Ecco si è avuto l'impressione Anche di un Soverato molto concentrato Non ha abbassato mai la guardia Come magari era successo In altre partite casalinghe Anche sul 2 a 0 La squadra si è applicata molto È stata molto reattiva Molto concentrata Quindi anche dal punto di vista mentale Dell'approccio alla gara Sicuramente un passo in avanti Della squadra Sì Dopo la sconfitta con Perugia Ci è rimasto un po' di amaro in bocca Siamo tornati in settimana A lavorare in palestra Non solo tatticamente Ma anche mentalmente E abbiamo approcciato al meglio Questa partita Coach Napolitano Sicuramente soddisfatto Per questa bella vittoria Del Vole Soverato In settimana avevamo presentato La partita Abbiamo detto che era una partita insidiosa Ma il Soverato si stava allenando bene Si erano avuti segnali incoraggianti Già durante gli allenamenti settimanali Confermati in campo Una bella partita Di tutta la squadra Direi dall'inizio alla fine Ma sì Siamo contenti per il risultato È stata una partita Di un'intensità Secondo me incredibile L'abbiamo vinta Perché abbiamo lavorato Secondo me Molto meglio Di loro In tutti i fondamentali Però sicuramente È un grande contributo Ci ha dato La nostra voglia di vincere L'intensità Con cui l'abbiamo giocato Io lo dico da un po' Quando giochiamo Con questa intensità È difficile starci dietro È chiaro che Non è sempre possibile Giocare in questo modo Per una serie di motivi Però siamo veramente contenti Di averlo fatto adesso Dopo comunque due partite Fuori casa Che avevamo perso Giocandole ugualmente bene Ma forse Con un po' Meno intensità Statistiche positive In tutti i fondamentali Per la squadra Tutta la squadra Si è espressa al meglio Una squadra che ha dato Dimostrazione di star bene Anche dal punto di vista Psicofisico Quest'oggi è stata molto Reattiva Abbiamo visto diversi scambi Prolungati Con grandi difese Molto apprezzate anche Dal pubblico Della squadra Che veramente ha lottato Su tutti i palloni Come si suol dire Ma io ho detto Prima della partita Che questa è una partita In cui per poterla vincere Noi dobbiamo fare Il 120% Dobbiamo fare il 120% E loro regalarci qualcosina E così è stato Perché loro hanno sofferto Un po' la partita negativa Dell'americana E noi abbiamo fatto Secondo me Veramente più di quello Che si poteva immaginare Nelle più grosse aspettative Soprattutto per quello Che è la correlazione Muro difesa Che ha funzionato stasera In maniera perfetta Devo dire un grazie A queste ragazze Perché non è facile Soprattutto in questo punto Della stagione In questo momento Della stagione Non è facile Dopo due trasferte consecutive Giocate bene Ma comunque perse Torni a casa con zero punti E devo ringraziare La squadra La squadra tutta Compresi i miei Gli uomini del mio staff Perché se fai queste partite Il merito è principalmente Di chi lavora con me Soprattutto nella misura In cui si ha la capacità Di ritornare in campo Con serenità Che è la cosa più importante Con la testa Quello che è il lavoro Da fare Per fare poi queste prestazioni Grazie a tutti Grazie a tutti